della pioggia, K-No Casting. Stai qua. Anche la pioggia si può applaudire, non è... Preferiamo il sole, ma va bene così. Buongiorno. Funziona? Sì. Buongiorno a tutti, io sono Andrea Di Artis. Parto con una domanda, prima di dirvi perché sono qui. Quanti di voi hanno, in un giorno di pioggia, pensato di passare un po' di tempo davanti alla televisione con la propria famiglia e godersi un momento comunque di intimità? Ma poi, per la troppa pioggia, si sono trovati in questa situazione. Questa è una situazione sgradevole, un problema, di fronte al quale ci siamo trovati in tanti. Un problema che per noi è stata la nascita di una soluzione. Una soluzione legata a questo evento, l'evento dell'alluvione che abbiamo avuto a Genova nel 2011. Adesso vi chiederete cosa c'entra l'alluvione con il fatto che non si vede la tv quando piove. Bene, ci arriviamo. Io sono qui per parlarvi dell'innovazione che noi di Artis portiamo nel mondo del monitoraggio del rischio indotto dalle piogge. Un mondo dove effettivamente ci sono dei problemi che aumentano di anno in anno. Le persone muoiono sempre di più di anno in anno. In ogni parte del mondo ci sono danni socio-economici ingenti che vanno veramente a influire su tutto il pianeta. E spesso e volentieri si ha a che fare con un evento particolare, un evento meteorologico particolare definito bomba d'acqua, cloudburst in inglese, che sono sostanzialmente dei fenomeni piovosi estremamente localizzati e intensi. Piogge quindi che avvengono in posti molto molto piccoli, con forte intensità e in breve tempo. E che per queste caratteristiche diventano praticamente impossibili da tracciare per quelli che sono gli strumenti che sono oggi a disposizione. E che quindi non permettono agli enti preposti e alla salvaguardia della sicurezza del territorio di poter fare le scelte opportune di intervento, di gestione di queste emergenze. Questi hanno un problema bello pratico e preciso. Sapere esattamente dove e quando si manifesta il proprio nemico. Noi quindi su questo problema ci siamo fatti diverse domande. Possiamo creare uno strumento che dia in tempo reale una definizione della localizzazione, della quantità di pioggia che cade su una zona specifica? Ci siamo fatti tante domande, tra cui quella che ci siamo posti all'inizio. Ma perché noi che siamo ingegneri delle telecomunicazioni, elettronici, e che sappiamo che il segnale della televisione satellitare è attenuato in maniera specifica dall'acqua che ha di fronte, perché non utilizziamo l'analisi di questo fenomeno per metterla a servizio di quella che è la sicurezza del territorio. E da lì nasce Smart Rainfall System, un sistema che si basa proprio sull'analisi del segnale ricevuto dalle antenne paraboliche, quelle che abbiamo sulla testa, diciamo, delle nostre case, come quella che abbiamo qui in sala. E grazie all'analisi di questo segnale è in grado di determinare in tempo reale delle mappe di pioggia che servono proprio ai territori per sapere dove e quando e come intervenire, per prendere decisioni opportune e tempestive. Chiudo una strada, evacuo una zona, ma chiudo proprio quella strada, non quell'altra, evacuo quella zona, non quell'altra, magari vicine, ma che determinano effettivamente una mitigazione di un rischio in maniera importante. Noi abbiamo creato un sistema che non è sulla carta, l'abbiamo creato, l'abbiamo sviluppato, sia a livello hardware che a livello software, che a livello proprio di funzionalità, tra cui le allerte, eccetera. È un sistema che stiamo installando da alcuni anni in diversi territori, sia in Italia che anche in Francia. E comunque stiamo pian piano installandone sempre di più. Quindi è un sistema esistente. Vedete, queste sono le antenne proprio tradizionali e quelle sono le cose che abbiamo sviluppato noi su questo tipo di piattaforma. È un sistema che quindi è già in piedi per andare verso un percorso di resilienza del territorio, dove il territorio possa veramente non rimanere in ginocchio dopo un evento catastrofico, dove effettivamente le attività possono sapere come proteggersi e le persone essere più sicure. Sicure in un territorio che è fatto sì dalla municipalità, ma anche comunque dall'industria, l'industria agricola, dalle strade, autostrade, dalle discariche, da anche le assicurazioni che dietro a questo mondo effettivamente hanno bisogno di conoscere il contesto nel quale il danno è avvenuto. E quindi un mercato estremamente vasto, in grande espansione su tutto il pianeta, purtroppo. Noi, diciamo, in noi credono i nostri partner, centri di ricerca nazionali, di livello internazionale, municipalità, protezione civile, anche il mondo privato, le autostrade, piuttosto che appunto delle discariche, come una discarica molto grossa che abbiamo in Liguria. In noi, diciamo, in un certo senso, hanno creduto diversi premi che abbiamo acquisito in questi anni, a dimostrare come l'impatto socio-economico del progetto possa essere importante, ma anche la fattibilità dello stesso sia effettivamente evidente. In noi ci crediamo noi, per primi il team universitario, in quanto siamo uno spin-off universitario, ma anche industriale, industriale che quindi possa permettere a questo progetto di diventare grande. Diventare grande anche come? Vi faccio un'ultima domanda. Voi sapete quante antenne ci sono in giro per il mondo? Grazie all'utilizzo del nostro software, del nostro hardware, installabile anche nei decoder, potremmo accendere un sistema di no-casting per il pianeta, il primo e il più capillare. Bene, grazie. Grande. A voi. Nel. Grazie. I'm confused. It's not hard to measure rain. I thought the point is you were going to use the existing satellite dishes. But are you using existing dishes and adding instrumentation or are they new dishes? Okay, both. In fact, we use existing dishes where we can and it depends on what we have. If we have just a satellite dish, it doesn't communicate data to our central system. So we have to add we have to add our sensor that just keep the information and send information to our control system. If we have some decoders some set-up box, traditional set-up box, as I said just in the very final part of my presentation, we developed a plug-in to be installed in the decoder to receive directly the information in our central system. Or, it depends, where you don't have any dish already installed, we install, for example, the image I showed before, dishes, ad hoc dishes with our electronics in order to monitor zones where you don't have an infrastructure already installed. Bruce? Your customers who are, you know, governments and meteorological boards and emergency services and so forth, they have a lot of money. Why don't you just go directly to them and ask them for the funding? We, we, okay, our customers are public and also private. We, but we started from the public, from the civil protection and municipalities and, in fact, we are on the market and we are, we started selling our system to them. The problem is that if we, if we want to introduce a disruptive innovation where normally, where normally civil protection in general regions or municipalities know just one kind of instrument, rain gauges or weather radars, you, you have to move stronger than what we are now. Actually, the problem is that in Italy, the public sector is very slow and not innovative enough. That's the problem. Okay. Okay. Microfono di Simona. Non si sente. Vai. No. Si è aperto il microfono di Simona, se dovessi vincere il premio, lo dico io, ha chiesto se dovessi vincere il premio cosa faremmo effettivamente. Allora. Con 100.000 euro come ti cambia il progetto? Allora, noi, ebbene, noi abbiamo in merito proprio al discorso del, in merito al discorso del no casting, nel senso sapere effettivamente il contesto per avere una proiezione di quello che succede. Noi abbiamo sviluppato la parte core che è quella della nostra tecnologia che dà un dato di pioggia che prima non esisteva sia nel tempo che nello spazio e che quindi apre una porta dove prima c'era un muro spesso un metro, non c'era neanche una porta chiusa. In questo caso abbiamo sviluppato la parte core ma poi abbiamo da fare molta, comunque molto sviluppo che abbiamo già iniziato ma che è importante da chiudere sulla parte precedente cioè utilizzare i nostri dati per avere una previsione diciamo statistica non meteorologica di come si muovono i fronti e sulla parte a valle utilizzare questo tipo di dato in pasto permettetemi il termine a dei modelli idrogeologici e geotecnici che permettono di avere un'anticipazione magari di un'ora o due su quella che può essere una frana che si stacca o un'esondazione. Grazie, in bocca al lupo perdonami ma ci sono anche gli altri. Grazie.